Giustizia è fatta anche dal punto di vista geografico. Il corridoio europeo baltico-adriatico, ossia il tracciato su cui l'UE investirà nei prossimi anni a livello infrastrutturale per migliorare i collegamenti in tutta l'area comunitaria, partirà da Danzica in Polonia e finirà a Brindisi e non più a Ravenna come deciso in precedenza. Il Parlamento europeo in assemblea plenaria ha approvato l'emendamento presentato dal gruppo dei socialisti e democratici e sostenuto anche dagli altri europarlamentari italiani che estende il corridoio fino in Puglia attraversando anche Marche, Abruzzo e Molise. Una vittoria importante che apre al sud la possibilità di beneficiare di investimenti per centinaia di milioni di euro nei prossimi anni. Soddisfatto l'assessore ai trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini, secondo il quale, quanto oggi realizzato, se riceverà il sostegno finanziario necessario contribuirà insieme al raddoppio sulla termolilesina a determinare condizioni di crescita e sviluppo per l'intero mezzogiorno. Un intervento sollecitato nei giorni scorsi anche dalla direzione regionale di Forza Italia che aveva rivolto un appello all'europarlamentare Elisabetta Gardini perché si facesse carico di perorare la causa della Puglia a Strasburgo. È una cosa molto utile per tutta l'Italia, ovviamente particolarmente sentita in Puglia e diciamo che domani ci sono buone possibilità, ottime possibilità che la cosa passi perché noi abbiamo lavorato all'interno del Partito Popolare, la cosa l'hanno portata avanti anche all'interno del PD e del gruppo socialista, i colleghi italiani e domani, se tutto va bene, dovrebbe essere presentato un emendamento orale che mette insieme, riformula i due emendamenti in modo che ci sia un unico voto. Quindi dopo io penso che ci sarà soltanto da rinnovare l'impegno perché l'anno prossimo quando si lavorerà sulle TNT dovremo fare lo stesso cambiamento e questo vuol dire infrastrutture che arrivano a completare quindi il corridoio nell'ambito della macroregione.